Lei è la signora? Io sono Campagna Adelina. Come commenta questo suo ultimo giorno? Questo ultimo giorno lo commento da schifo, perché non avrei mai immaginato di arrivare oggi a questa conclusione. Sono incazzata nera con tutta la città d'Imperia, con tutti i politici che sono venuti a fare la passerella e che non hanno fatto niente per salvare tutto questo. E si è fatto dica, dica? E noi adesso ci troviamo, 150 persone a casa, senza niente alla fine dell'anno. Non abbiamo niente da festeggiare, né Natale, né niente, perché ci hanno già pensato loro. Quanto tempo lavorava qua? 28 anni. 28 anni della mia vita passata qua dentro. Era un lavoro che io amavo tantissimo. Ho sempre fatto questo e lo amavo alla follia. Come commenta la visita di questi due dirigenti del gruppo? Sono senza parole, non riesco a commentarla, perché veramente è di cattivo gusto questa cosa. Non ho idea di che cosa siano venuti a fare. Veramente sono senza parole, non lo so.